Il passo successivo è fare una forma cilindrica o un bicchierino. Io ce l'ho e ti mando un modello di questa cosa. Che succederà? Che tu te lo guardi e ce l'avrai comunque dentro un rettangolo. Ho tutto sto mettendo dentro i rettangoli, anche il disegno della pianta l'ho fatto dentro i rettangoli, l'esagono sotto, i fiori dentro i rettangoli. Allora questo qui, hai questa misura qui, con questa misura misuri l'altro. Dopodiché fai una valutazione e ti immagini un rettangolo che contiene la faccia superiore. Un'altra cosa fondamentale è che ti tracci un asse di simmetria che stavolta non serve, ma quando farai una brocca ti servirà.